Buonasera ragazzi benvenuti in questo nuovo video sono frat380 e oggi siamo su questo nuovo video Oggi visto che non so cosa cazzo fare Ehm faremo Facciamo marice plane Vai 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 Bella raga bella raga bella raga bella raga Ok prima cosa il mio amico mi ha superato con gli aerei quindi Farma 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 fai robe Farma è la mia unica regola Farma dai coglione Ehm fino a così poco che cos'è Dai Schiere Dai 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 Ma che si figa Sì sì wow si muoiono ok raga beh io farò un po' e poi ci vediamo quando ho finito ok quindi beh ciao raga ciao dopo